Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo del torno. Pesce dal muoto veloce vive in branchi numerosi e riesce a coprire lunghe distanze e grande. Resistente, scatente con il corpo, fusolato, coperto di piccole scale di colore blu scuro, matellico. No, metallico, scusate. Colostria dure bianca, castre su un ventre, viene spesso definito il maiale del mare. Perché di questo pesce si sfrutta la carne di tutto il corpo e anche le uova. Con qui si fa una preparazione alimentata fatta di uova, di tonno salato. Fine, ciao e io spero che il video vi sia piaciuto. Ciao ciao!